Vi è qualcun altro, qualche altro membro della Commissione che desidera intervenire? No. Onorevole Bostinaru. Grazie Presidente. Cari petenti e cari colleghi, questa è una giornata molto dolorosa da ricordare perché mostriamo quali sono i limiti della nostra Unione, dei nostri appoggetti e anche gli abusi compiuti da autorità di Stati membri è un problema che deve essere assolutamente affrontato. Sin dall'inizio della mia vita politica ho sempre ritenuto che la Commissione dell'AIA fosse il modo per misurare il comportamento dell'amministrazione di un paese candidato, però non avrei mai immaginato che Copenaghen potesse invece essere anche collegato ad una violazione così drammatica dei diritti fondamentali. È assolutamente incredibile. Io amo la Danimarca. Ho sempre apprezzato molto il funzionamento delle istituzioni democratiche in quel paese. Tuttavia, dopo aver ascoltato la Commissione e soprattutto le testimonianze drammatiche dei petenti, vi sono comunque delle questioni che devono attirare assolutamente l'attenzione della Commissione. Innanzitutto, dov'è il pari trattamento dei genitori di fronte al Tribunale? Si tratta di un diritto fondamentale dei cittadini europei di essere trattati in modo pari di fronte alla legge. Però, viene detto che c'è una grave discriminazione sulla base della cittadinanza, dell'origine etnica e del fatto che i cittadini della comunità, dell'Unione, una volta che sono sposati in Danimarca, sono trattati in maniera diversa. Quindi, questo rientra nella normativa europea. Ma se nella mia povera Romania qualcuno fosse trattato in questo modo, io sarei il primo a chiedere al Paese di essere sanzionato, perché è assolutamente inaccettabile. Poi, i diritti processuali di un cittadino dell'Unione. E cioè, l'eco e pari trattamento di entrambe le parti. Però, abbiamo sentito dai petenti che di fronte ad una corte, una parte viene trattata in modo privilegiata, l'altra invece viene privata dei suoi diritti fondamentali. E anche questo è inaccettabile. Non si parla della Russia e di altri Paesi, ma di un Paese membro dell'Unione. Poi, anche la decisione adottata dalla Polizia. E cioè, di trattenere il passaporto di un cittadino dell'Unione. E questo corrisponde ad una violazione del diritto fondamentale di libera circolazione. Perché anche in un Paese non membro, la decisione di trattenere il passaporto, quindi limitare il diritto fondamentale di stare o di risiedere in uno Stato membro, richiede comunque una sentenza di un tribunale. Qua invece si tratta semplicemente di una decisione della Polizia. Ma la Polizia non ha questo potere. Perché dobbiamo accettarlo? Semplicemente perché è la Polizia danese? No, è inaccettabile. Poi si tratta di una vera brutale interferenza delle autorità pubbliche e nella vita privata familiare, del rapporto tra genitori e figli. A Sparta vi erano delle regole draconiane che decidevano cosa andava bene per un bambino o meno. Perché se un bambino era disabile o aveva qualche problema era condannato a morte. Allora, qual è un'autorità pubblica che nella nostra Europa può decidere cosa è giusto o sbagliato per una famiglia, per la sua vita, in un modo poi così unilaterale? No, è assolutamente scioccante. Ma io sono triste e sono anche profondamente toccato nell'ascoltare queste storie tremende. Ma un'autorità, a prescindere da quale sia, può togliere ad un genitore un diritto fondamentale almeno di avere accesso al proprio figlio, di vedere il proprio figlio. E questa persona può essere imprigionata un giorno, sette giorni, sette mesi, questo non è importante, ma semplicemente per aver cercato di vedere il proprio figlio. Questo è un regime nazista che decide come gestire la nostra vita familiare, i nostri figli, la nostra vita sessuale. Ma possiamo accettarlo in modo così innocente? Mi dispiace se mi sto esprimendo in maniera abbastanza dura, ma anch'io sono un genitore. Avevo anche una figlia che è morta giovane di leucemia. Quindi siamo noi per decidere su una cosa così delicata, cioè i diritti di un genitore. Chiedo scusa per questa osservazione così dal profondo del cuore, però sicuramente non possiamo continuare così. Non stiamo parlando di merci, di diritti di proprietà, ma stiamo parlando invece di diritti fondamentali. E almeno dovremmo stabilire degli standard comuni affinché i genitori e i figli siano trattati in maniera equa all'interno dell'Unione. Questo è fondamentale. Noi adesso nella nostra campagna elettorale diciamo che il progetto europeo è così bello, così eccezionale. Però cosa dire a questi petenti e agli altri genitori in Europa? Conosciamo i casi del Regno Unito. Qual è quindi il messaggio a Commissione europea che diamo a questa persona? Abbiamo delle risposte? Possiamo accettare di continuare a tacere, ad essere ciechi, anche se vediamo tutto con i nostri occhi, perché la nostra neutralità diventa complicità. Ora concludo, chiedo scusa ancora una volta, però quando parlo di diritti dei minori, nessuno può essere di ferro o di ghiaccio, perché ritengo che questi siano i sentimenti umani più preziosi. Persino gli animali trattano i loro cuccioli, direi quasi con sentimenti umani. Quindi non possiamo rimanere a mente fredda quando discutiamo i diritti dei bambini. Io quasi quasi vorrei chiedere ai petenti di rivolgersi, di addirittura alla Corte europea dei diritti dell'uomo, so che possono farlo. Ma quanto a lungo un bambino può essere condannato a rimanere senza il proprio padre, la propria madre, senza il genitore, prima che giunga la sentenza finale a Strasburgo? E poi lo Stato membro sarà obbligato finalmente a rispettare questa sentenza. Come possiamo misurare le sofferenze di questi bambini? Chiedo scusa. Purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione per trattare anche le altre petizioni. Grazie Presidente, onorevole Pagliadeli, cercherò di essere breve perché quando siamo andati in Danimarca, io e il Peter, in quella fact find mission, ci siamo trovati innanzi a qualcosa di inabituale per questa commissione, come diceva Victor, ed è molto difficile dopo che ha parlato il mio amico e collega Victor Bostinaru. Delle sue esperienze personali, del suo dramma, è difficile concentrarsi su questo tema. Quello che viviamo qui oggi, quello che stiamo ascoltando qui oggi, Victor, è la punta dell'iceberg di quello che si vive in Danimarca. Quello che abbiamo dovuto ascoltare, le esperienze di vita di quelle madri e di qualche padre che ci parlavano di quello che si viveva in quel paese dell'Unione Europea. E questa è la tragedia. Nell'Unione Europea accade questo. Non stiamo parlando di un paese dell'Africa centrale, dell'America profonda. No, nell'Unione Europea è tremendo quello che sentiamo. Madri molestate, arrestate, fatte ricoverare con problemi per questi casi. Ma non dimentichiamo bambini con problemi psicologici, con turbe che vengono sradicati dall'ambiente familiare. E a tutto questo si aggiunge il fatto che il governo danese viola convenzioni, diritti umani. E poi questo da parte di un governo dell'Unione Europea. Io vorrei riflettere sul contenuto. Quando ascoltiamo la Commissione, i rappresentati della Commissione spiegano, esprimano solidarietà, però c'è sempre un mal a sussidiarietà, non possono entrare in merito. E questo è il problema che abbiamo qui, amici e colleghi. Facciamo venire queste madri che raccontano le loro tragedie, che vengono qui, poi vanno sui giornali, poi tornano in Danimarca con il loro problema. Che faremo noi della Commissione petizioni? Questo è il problema. E poi io lo dico, questo non può fermarsi qui, solo in questo ambito di questa Commissione. No, questo lo dobbiamo dire all'esterno, se ne deve parlare in una plenaria del Parlamento, perché tutti i colleghi lo sentano, capiscono quello che succede qui, che è uno scandalo in Europa. E quindi io non so quale sarà il metodo per farlo, però sicuramente questa è una delle cose più importanti che deve fare questa Commissione petizioni in questa legislatura. È tutto. Ottimo suggerimento, onorevole Turgais, onorevole Boulon. Grazie Presidente, vorrei anch'io fornire il mio sostegno collettivo di questa Commissione presso dei richiedenti che hanno espresso il dramma che vivono. Bisogna dire che tra tutti i temi che trattiamo in questa Commissione petizione, questi temi sono i temi più drammatici, duri, più importanti che trattiamo. E quando dico che trattiamo lo dico con molta modestia, relativismo, perché riusciamo a risolvere le questioni in maniera più rapida in altri ambiti che non in questo. è l'anno della cittadinanza 2013, ma non c'è cittadinanza e vita in società se non c'è la cellula familiare, che è l'ABC della nostra vita in generale. Questa questione è una questione europea? Si è ritenuto che queste petizioni fossero ammissibili. Una delle condizioni fondamentali per questo è che il tema rientri nell'ambito di competenza dell'Unione europea. Quindi sì, è un tema europeo e non riguarda solo la sussidiarietà. Anche se bisogna rispettare la sussidiarietà, io sono d'accordo. Non si tratta neanche di attaccare un paese, anche se la Danimarca entra un po' in un ristorante europeo e sceglie dal menù come vuole. Insomma, forse potrebbe essere invitato a condividere di più. Questi casi non sono drammi isolati. Sapete, per la Germania abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di petizioni sulle stesse problematiche. Adesso vediamo che gli stessi temi arrivano relativamente alla Danimarca. Quindi bisogna dire ai petenti che non sono soli. E anche se l'analisi e l'esame di ogni caso è un po' complicato, spetta a noi, come è stato detto, cercare di trovare delle soluzioni nella nostra commissione petizioni di dar prova di capacità, di immaginazione e di pressione. Tanto più perché questi casi sono solo la punta dell'iceberg. Il diritto di presentare una petizione non è conosciuto a tutti i cittadini europei. Immagino che ci sono tante persone nella stessa situazione che non hanno utilizzato la petizione come strumento. C'è un'esperienza a proposito delle separazioni, delle custodie di bambini in Germania. E purtroppo devo confessare, e lo sapete bene, che è da tre anni che ci occupiamo di questi temi. Non abbiamo fatto progressi su questi punti. Eppure abbiamo fatto tante proposte, siamo andati in visita e missione in Germania, così come è stato fatto in Danimarca. Le somiglianze, il ritiro del diritto di visita, il fatto di non potersi difendere, il costo delle trafile, la durata delle stesse. A volte i figli diventano anche maggiorenni, quindi le procedure diventano obsolete. Poi delle accuse folli, a volte l'accusa di voler rapire il bambino, il mobbing da parte delle autorità, l'utilizzo anche abusivo del mandato d'arresto europeo. La Commissione europea, le varie interrogazioni scritte che io ho formulato a proposito della Germania in passato, che riguardano anche quello che abbiamo sentito oggi, si sottrae o si trincera dietro il diritto comunitario e le decisioni della Corte di giustizia e le legislazioni nazionali e la sussiderietà. Ma bisogna anche ricordarsi che in molti casi le legislazioni degli stati membri delle due persone che costituivano la coppia che si è rotta, sono in contraddizione. Un paese magari in un paese la giustizia prende una decisione e nell'altro paese la decisione prende una decisione diversa. Allora che si fa? Quale sussiderietà bisogna riconoscere? E' certo che questi temi sono molto complicati da affrontare. Le Corte di giustizia, i tribunali, lo Jugendamt per la Germania, che di solito svolgono un lavoro coerente e accettabile, a volte sbagliano. E aspetta ogni Stato membro poter proporre ai suoi cittadini una possibilità di ricorso degna di questo nome, non andare dinanzi alle stesse istanze. C'è anche poi Roma 3 che indica ai genitori che si sposeranno, anche se non è molto allettante, insomma che dice ai genitori che si sposano, che hanno la scelta di legislazione in caso di divorzio a cui fare appello. Non so io in Francia, ma quale sindaco nell'ultimo villaggetto, com'è a conoscenza di questo per indicare alla coppia di due nazionalità diversa che si sposa? Si prendono delle grandi decisioni e poi più nessuno si occupa di applicarli nel concreto. Nelle proposte che io avevo formulato a proposito dello Jugendamt, ente per la gioventù, la Germania e l'Italia sono due paesi che non hanno un mediatore nazionale. Ora mi sembra che per il cittadino europeo avere una possibilità di far ricorso ad un mediatore mi sembrerebbe essere una disposizione più neutra possibile e che inoltre rispetta la legislazione del paese. Questo ci eviterebbe di doversi mischiali nelle legislazioni nazionali. E poi, nelle petizioni che abbiamo visto, c'è un legame con il mediatore danese. Nessuno ne ha parlato tranne una persona che ha detto che il mediatore si era rifiutato di trattare questo caso. Io trovo che sia un po' scandaloso, ma sinceramente penso che una soluzione sia rappresentata anche dal mediatore europeo e dalla rete dei vari mediatori nazionali. Quindi ce ne vuole uno in ogni Stato membro. Se un mediatore viene in mente alla sua responsabilità deve poter essere di nuovo interpellato dal mediatore europeo affinché si risolvano questi problemi. E credo che questo sarebbe il modo più soft per fornire un aiuto ai cittadini europei. e ultimo punto a forza di avere delle delusioni in questi ambiti credo che abbiamo il compito e il dovere noi eurodeputati abbiamo più possibilità di farlo. Dicevo, noi abbiamo il compito di informare i media i Stato membro questo è quello che faccio almeno io nel mio possono accompagnarci in queste iniziative che portiamo avanti per sensibilizzare ogni Stato membro quando non si assume le sue responsabilità rispetto ai suoi cittadini. Devo dire che è una questione estremamente importante che è molto triste però non abbiamo tanto tempo quindi onorevole Iar la invito a essere breve ah no, chiedo scusa Ok mi esprimerò in danese non perché non voglio che i presenti danesi non capiscano bene sì ho capito la questione su però devo dire che ombudsman e mediatore non è la stessa cosa almeno il mediatore che conosciamo noi è una cosa un po' diversa dall'ombudsman danese abbiamo ascoltato tutte queste testimonianze devo dire che è tremendo tutto questo rientra nel mio lavoro e anche nelle mie esperienze però dovremmo sentire anche l'altra parte è sempre straziante però è diverso quindi non aspetta a noi fungere da mediatori nel senso che intende dell'onorevole Bullon possiamo magari incoraggiare le persone a comprendersi aggiungere un accordo ma questo non è il nostro compito perché non potremmo dire anche se fosse qua l'altra parte ma ha ragione l'uno ha ragione l'altro ha sbagliato questa amministrazione o l'altra quello che è ingiusto è che i nostri petenti non abbiano la possibilità di esprimersi magari una parte ha avuto la possibilità l'altra no magari il segretariato ce lo può anche confermare e forse un altro errore è stato dire ai petenti che il fatto di venire qui di fronte a questa commissione avrebbe potuto aiutarli in qualche modo ma sappiamo che questo problema è relativo ai diritti dei bambini dei minori non riguardano solo la Danimarca riguardano anche altri paesi tutti i paesi sono tutti casi molto complessi come quello dello Jugendamt sono sempre delle lacune delle amministrazioni pubbliche vanno trattati anche come errori proprio quindi conosciamo tutti questi casi ma non li possiamo risolvere qui e questo va detto chiaramente io sono assolutamente a favore del fatto che la Danimarca abbandoni questo suo opt out e che invece si adegui anche dal punto di vista normativo a questi casi di diritto civile in modo da risolverli e comunque gli altri paesi hanno anche degli accordi paralleli hanno negato anche questi accordi paralleli su queste questioni quindi non è solamente colpa nostra beh diciamo che noi abbiamo rifiutato abbiamo avuto l'opt out questa è colpa nostra a questo punto di vista comunque io capisco che è molto difficile però vorrei sentire anche l'altra campana sono state contattate le altre parti perché penso che anche loro abbiano i loro diritti sì ho sentito padri e madri che piangono però in Danimarca e si è anche discusso del modo in cui il nostro diritto della famiglia attribuisce troppi diritti ai genitori rispetto ai diritti dei figli però devo dire che per la metà dei casi che ci sono presentati le autorità non hanno fatto nulla nel momento in cui c'è stata una richiesta di contatto da parte delle persone interessate comunque ringrazio anche la commissione per aver presentato le loro posizioni in generale sulla questione che comunque non accolgo i contributi di alcuni colleghi che secondo me erano un po' fuori luogo grazie onorevole allora io proporrei che nessuno straniero sposi un danese fino a quando non sarà modificata la legislazione danese onorevole Iar grazie sarò breve perché vi sono altri colleghi che desiderano intervenire anche perché gli altri colleghi poi sono già espressi in maniera molto complet a riguardo avevamo previsto due due ore per ascoltare i petenti invece siamo rimasti fino a mezzanotte anche gli interpreti però dovevamo assolutamente ascoltare quello che ci veniva presentato non potevamo assolutamente interrompere questa audizione diciamo che appunto dovevamo anche partecipare dal punto di vista proprio emotivo come raggiungiamo alle conclusioni sì io apprezzo apprezzo pienamente danni marco mi piace molto il panorama le persone sono simpatiche eccetera però questo non è che vedere sicuramente la situazione non deve continuare così c'è qualcosa che va storto secondo me iniziamo in maniera positiva è estremamente positivo il fatto che la commissione dice che elaborerà degli orientamenti per quanto riguarda i diritti di visita in caso di divorzio separazione quindi è importante appunto anche aiutare si parla di cittadinanza europea e questo significa appunto che anche le persone si sposino si amino e facciano dei figli però quando succedono queste cose dobbiamo comunque in qualche modo gestirle disciplinarle la commissione dice che è tutto disciplinato ma via il principio di sussidiarietà che si applica però Danimarca è un po' un caso speciale allora l'opt out questa è una mancanza di libertà questo non deve portare comunque alla discriminazione dei cittadini dell'unione poi avrei una domanda per la commissione è una cosa che ritorna sempre ho un po' l'impressione che con questo opt out allora l'impressione è che la Danimarca faccia l'opt out un po' per sganciarsi era molto interessante abbiamo avuto così anche un colloquio però c'era anche poca disposizione a collaborare perché fondamentalmente i danesi rispondono facciamo quello che vogliamo ma così non funziona quindi da una parte c'è l'opt out poi dall'altro vi è anche il diritto internazionale e la Danimarca accoglie il diritto internazionale però forse non accoglie quello comunitario è molto semplice è più semplice quando c'è un contrasto tra un canadese e un danese piuttosto che tra un austriaco e un danese questa cosa non la capisco sì il diritto internazionale deve essere applicato anche tra gli stati e i membri dell'Unione allora se alcuni ad esempio se un genitore straniero lascia la Danimarca e perde il suo diritto di vista questo assolutamente non funziona non è accettabile e quali sono poi i diritti dei petenti sicuramente noi come Commissione non abbandoneremo il tutto soprattutto non dimenticheremo le cose che non funzionano c'è comunque anche una Corte Europea di Giustizia dobbiamo comunicare anche verso l'esterno questa è sicuramente la nostra impostazione che abbiamo la nostra arma politica quindi non discutiamo solo il nostro interno quindi continueremo comunque a discutere la questione e chiedo alla Commissione comunque di analizzare esaminare e vedere se l'opt-out può portare alla discriminazione di un cittadino dell'Unione ma io penso di no perché comunque è già il trattato di base ogni volta vogliamo discutere con la Danimarca ci viene posto questo opt-out e con quello non si può più discutere però l'opt-out non è una non libertà e non può portare a alcuna discriminazione poi ultimo punto vi sono anche i diritti dei bambini questo non mi hanno dimenticato grazie grazie sarò breve presidente io sono pienamente solidale con i petenti ora dovremmo riflettere su cosa fare come forse in qualche modo superare anche la questione della sussiderità io sono d'accordo con l'onorevole Iar non dobbiamo abbandonare la questione ma spesso invece ritengo che la commissione si arrenda perché la commissione viene qui ed è la commissione che è l'intermediario tra noi commissione petizioni e i governi e poi si vede che nei vari fascicoli vi è la commissione che fa delle richieste ai governi i governi poi danno delle risposte molto formali se facciamo quello che va fatto non vi è nessun problema poi la commissione è soddisfatta quindi la commissione non insiste per ottenere una risposta adeguata per ottenere dai governi anche delle risposte concrete su casi specifici su violazioni specifiche perché solitamente le governi sono molto semplici vaghe senza alcun riferimento ad accuse concrete ad abusi concreti quindi penso che la commissione debba invece insistere è dire appunto ricordare ai governi che esiste la commissione delle petizioni vogliamo anche il rispetto dei governi addirittura i governi si dimenticano delle istituzioni europee il Parlamento europeo e non vogliono alcuna interferenza nelle questioni interne ma questa non è una questione di uno Stato una questione interna invece si tratta di diritti fondamentali dei cittadini grazie Presidente cari colleghi cari petenti sarò breve abbiamo ascoltato questi casi drammatici di grande portata emotiva anche legale si è parlato appunto di sussediarietà di questioni politiche di opt out da questo possiamo solamente dedurre che tutte le proposte che sono state presentate adesso e che parlano di pressione politica e pressione da parte di mass media e che quindi devono essere le prime conseguenze e quindi io proporrei appunto di rivolgersi direttamente alla commissione e al consiglio in modo da aggiungere quindi anche a una discussione in plenaria tuttavia ci possiamo aspettare che la commissione e il consiglio fino a quel momento mostrino anche un po' di creatività giuridica e politica in modo da uscire da questo vicolo cieco perché non possiamo assolutamente accettare l'attuale situazione quando si tratta di minori di bambini non c'è più tolleranza e tutta questa discussione l'ha dimostrato chiaramente quindi noi ci aspettiamo adesso che si tratti immediatamente questa questione quindi questa modifica dello status di opt out questa deve essere la priorità numero uno e questo me lo aspetto dal consiglio e dalla commissione e non sempre la stessa situazione grazie onorevole Vertman grazie ma vorrei iniziare con la commissione apprezzo le sue risposte tuttavia mi spiace molto il fatto che non ci date alcuna risposta che possa dare un po' di speranza a questi petenti e ai loro figli ma credete realmente che l'opt out sia la risposta voi ritenete che siamo così ingenui che non sappiamo che vi siano anche convenzioni internazionali come ad esempio quella dell'AIA presidente io conosco già uno o due casi nel caso in cui non è stata applicata la convenzione dell'AIA ma questo è europeo o non è europeo ecco quindi questa è una domanda per voi poi alcuni colleghi dicono che appunto dovremmo obbligare la commissione ad una collaborazione più stretta però devo dire che io sono stata in stretta contatto con il rappresentante della commissione in vari casi ma sfortunatamente ci hanno sempre detto noi possiamo spingerci fino a questo punto ma non possiamo spingerci oltre perché c'è l'opt out ma mi domando se l'opt out effettivamente non ci sia non ci dia la possibilità anche di dire anche di no alla carta europea dei diritti fondamentali di dire di no ai diritti dell'uomo ai diritti dei bambini e quindi opporci a qualsiasi altro diritto europeo perché cara presidente cari colleghi cari petenti stiamo parlando dello Stato europeo che fa parte di uno Stato europeo di uno Stato membro dell'Unione ci c'è l'opt out ma questo dà un diritto a questo Paese in particolare di opporsi di dire di no alla legislazione comunitaria di dire di no di rifiutare questi diritti europei possiamo aspettare accettare questo tipo di comportamento all'interno dell'Unione europea da un punto di vista politica siamo sorpresi di avere tendenze all'estrema destra all'estrema sinistra ma vedo che sta ridendo la collega Hocken ma se non riusciamo a far rispettare i diritti e non possiamo farli rispettare per i petenti e per i bambini allora possiamo veramente credere di tenere unita l'Unione europea da un punto di vista politico li abbiamo ascoltati una si è sentita quasi come un un ebrea durante la seconda guerra mondiale un'altra ha parlato di regime nazista ma allora noi come politici possiamo permettere che i diritti dei petenti dei cittadini o persone comunque che vivono all'intera l'Unione europea ecco possiamo permettere che questi diritti siano trattati come una cosa qualsiasi siano anche appunto buttati via calpestati i bambini hanno il diritto di stare con la propria madre perché è la madre che dà vita ad un bambino quindi mi domando se queste madri e qualche padre anche sono trattati come delle persone o forse se la Danimarca tratta meglio gli animali delle persone poi avrei altri punti da sollevare in questo caso vi sono problemi con le autorità perché soprattutto per alcuni casi qua presenti vi sono documenti documenti che sono stati anche lasciati in modo errato o erroneo vi è per esempio una signora che può dimostrare che ha il documento corretto e alcuni mesi dopo è stato rilasciato un altro documento però a favore della controparte quindi del suo ex marito e poi quando si chiede accesso alla documentazione si vieta questo diritto questo fa parte dell'opt out o fa parte invece dei diritti europei e poi sono anche addirittura prove che scompaiono una signora un giorno mi ha telefonato dicendomi chiedendomi cosa posso fare devo informarla del fatto che la documentazione è scomparsa non vi sono più prove ma possiamo effettivamente permetterlo cara commissione dobbiamo chiederlo a tutti gli stati membri perché pare che a loro vada bene dicono che è europeo ma io ho qualche dubbio a riguardo poi un altro punto da sollevare è che questi bambini diventano dei prigionieri abbiamo sentito che questi bambini non possono più lasciare il paese si vi è addirittura una madre che vuole andare in vacanza con il suo figlio abbiamo parlato di due settimane o di due giorni e però le ha negato il diritto di andare in vacanza con la propria figlia deve rimanere in Danimarca quindi viettiamo i nostri figli o togliamo a questi bambini il diritto di andare all'estero e andare al di fuori di questo paese ma è quello che vogliamo per questi bambini poi si è parlato l'ombudsman cari colleghi ci siamo recati nell'ufficio dell'ombudsman e l'ombudsman ci ha informato di quello che può fare il suo ufficio e abbiamo sentito una risposta che è stata data dall'ombudsman petente ma pensate proprio che questa sia la persona giusta a cui rivolgersi e devo dire mi aveva detto chiaramente che questo è un sistema sistematico in Danimarca sì vi sono anche problemi in altri paesi però qui invece il problema è sistematico è solamente la punta dell'iceberg e sono proprio convinta perché io so che vi sono centinaia di casi simili io e se poi mi unisco ad altri che conoscono centinaia di casi ve ne sono migliaia ma questo è normale è europeo va bene per uno Stato o un membro dell'Unione Europea tanto per tornare all'aspetto politico quindi cari petenti io mi congratulo con loro per il loro coraggio di rivolgersi a noi per essersi presentati in pubblico perché è molto importante che noi come Unione Europea effettivamente siamo informati su quello che avviene in uno Stato membro così stimato io comunque ho qualche dubbio sul fatto che continueremo a apprezzare questo paese sì sono anche contenta degli orientamenti che ci propone la Commissione ma cosa porterà questo dovremmo anche pensarci molto probabilmente non ci saranno più coppie miste a breve già l'ho sentito nel mio paese io sposerò solamente un austriaco un austriaco perché io non voglio assolutamente incontrare le stesse difficoltà di cui ho letto sul sito internet del Parlamento e io capisco queste reazioni quindi dobbiamo riflettere anche su questo quindi su delle ricadute di questa situazione quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che dovremmo discutere neanche in aula l'avevo già proposto due anni fa ma tutti hanno detto ma no si tratta di un unico caso ecco vediamo che questi problemi sono tragici e poi non sono assolutamente dei casi singoli quindi ricordando tutto questo e con tutte le informazioni che abbiamo ricevuto ancora un'ultima cosa cara commissione è stata anche una cosa che è stata presentata in maniera errata e malata non era lì e questo va ricordato perché ho letto la dichiarazione e poi anche la versione che è stata distribuita dalla Presidente Mazzoni e se la commissione non comprende bene i documenti forniti dal Parlamento e noi chiaramente li riceviamo dai petenti ma sono documenti originali reali non sono dei pareri un'ultima cosa altrettanto importante vorrei ricordare a tutti che i eurodeputati possono esprimersi solo alla luce di quello che viene fornito loro e delle loro ricerche e anche questo è importante perché vi sono taluni che mettono in questione la nostra credibilità al nostro lavoro noi sicuramente non siamo un tribunale però dai nostri principi del nostro lavoro come membri della commissione petizioni dobbiamo appoggiare i petenti nel trovare una soluzione e magari di restituire i loro figli grazie grazie a tutti è stata una mattinata scioccante devo dire onore Bustinaru prego mettiamo da parte le sensazioni più forti però voglio avanzare una proposta concreta 1 interrogazione orale con dibattito e risoluzione 1 numero 2 missiva da passare alla commissione affinché inizia ad elaborare un documento sui problemi che devono essere affrontati a livello europeo perché il nome del paese è importante però non è importante quando questo succede anche in altri stati membri quindi dobbiamo risolvere il problema dobbiamo chiedere alla commissione europea di far sì che in ultima istanza ci sia una soluzione giuridica vincolante per evitare in futuro tragedie di questo tipo affrontate con serenità da alcuni io onorevole Bostinato questo è il ruolo della Presidente dire qualcosa di questo tipo quindi vorrei io concludere ho ragione oppure no dice la Presidente grazie è stata una giornata veramente scioccante ripete la Presidente mi ha ricordato Shakespeare che dice che qualcosa c'è di marcio nel regno di Danimarca non ho ancora concluso c'è del marcio in Danimarca non è una questione soltanto politica è una questione ideologica e sono scioccato dal fatto che provenga da un paese del nord dell'Unione Europea ha un impatto veramente forte sull'idea europea in ultima istanza quindi mi domando cosa facciano i colleghi danesi nel Parlamento europeo per cambiare questa situazione però non lo so chiederei all'onorevole Hawken di cercare di informare anche i colleghi in Danimarca quindi cosa faremo possiamo scrivere un'altra ammissiva alle autorità danesi nella speranza che diano questa volta una risposta più appropriata dovremmo farlo questo dovrebbero farlo anche loro naturalmente il commissario deve essere informato immediatamente in maniera urgente deve essere informato del contesto di queste petizioni e di tutto lo sfondo quindi magari dovrebbe essere qui presente il commissario e magari bisogna accettare la possibilità di formulare un'interrogazione al Parlamento europeo e di parlarne ma ne parleremo nella riunione dei coordinatori quindi sono aperta a questo il governo danese ha risposto diverse volte tramite la rappresentanza non siete soddisfatti della risposta lo so non è vero è assolutamente vero purtroppo dobbiamo concludere in questo modo ad ogni modo grazie ai petenti grazie ai colleghi speriamo che la commissione possa presentare delle possibilità per difendere i vostri casi e il Parlamento sarà sicuramente a vostro sostegno la prossima riunione o le prossime riunioni la questione finale manteniamo o non manteniamo alcuni punti 45 e 47 verranno tenuti aperti grazie 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 grazie